Si è conclusa ieri la tre giorni dedicata all'autrice e illustratrice di Albi per l'infanzia, Alice Campanini, in visita a Sciacca. Una serie di iniziative hanno visto la giovane impegnata nelle letture nei laboratori per i più piccoli, a cominciare da venerdì scorso, quando nei locali della Biblioteca Junior, Aurelio Casser, si è svolto un incontro con gli alunni della Scuola dell'Infanzia Sant'Agostino, un laboratorio organizzato nell'ambito del progetto curriculare Fantastica Storia, curato dalla referente Valentina Vitale, insegnante del secondo circolo didattico, strutturato in un ciclo di attività volte ad approfondire il mondo degli in-book, libri inclusivi che facilitano l'avvicinamento al testo scritto. In particolare, i bambini hanno scoperto come nasce un in-book attraverso un'attività laboratoriale che ruotava attorno al racconto Signor Orso a fame. Dopo una lettura animata della storia, sono state analizzate le fasi di elaborazione di un albo in simboli, dall'ideazione della storia alla scrittura del testo, fino alla traduzione simbolica. Grazie all'utilizzo di un apposito software, i bambini hanno provato l'esperienza di tradurre una frase di loro ideazione in comunicazione aumentativa, e infine hanno giocato a dar vita ai disegni del racconto, attraverso sagome di feltro che raffiguravano gli elementi principali della storia, costruendo insieme una vera e propria colazione di stoffa. Le iniziative promosse nell'ambito della comunicazione aumentativa alternativa, lo ricordiamo, fanno seguita ad una formazione che il Comune di Sciacca ha istituito in collaborazione con il Centro Sovranazionale di Milano, grazie al quale è stato inaugurato uno scaffale di libri in book proprio all'interno della biblioteca comunale, e che ha visto nascere un'apposita equip di traduttori che ciclicamente organizza una serie di iniziative legate al mondo della traduzione in simboli. Un altro momento rimarrà inoltre impresso tra i ricordi dei bambini. I piccoli hanno infatti avuto modo di vivere la narrazione in un contesto di pertinenza, una lettura contestualizzata all'interno di uno spazio privato, il Giardino Scandaia, nel quale i personaggi del racconto hanno trovato naturale collocazione ed espressione fra gli agrumeti e le numerose piante aromatiche, alcune delle quali utilizzate per la realizzazione di un orto didattico. Alla fine dell'incontro, in collaborazione con la libreria Ubic di Sciacca, ogni bambino ha ricevuto una copia del libro con dedica personalizzata dell'autrice Alice Campanini e ha portato con sé il vaso realizzato come ricordo dell'esperienza. Le iniziative rientrano nel maggio dei libri, manifestazione promossa dal comune di Sciacca.